Premio di robotica RomCup vinto per la seconda volta, quindi il primo premio, da alcuni alunni dell'Istituto Gatta, dall'Istituto Industriale. La robotica oggi è un campo in grande espansione, sottende a tutti i saperi, ha conquistato tutto lo scibile umano e penso che una scuola che faccia questo, cioè che insegni a sperimentare e a ricercare nuovi mezzi, nuovi strumenti, nuove vie per l'automazione, è una scuola al passo con i tempi. Quest'anno abbiamo deciso di riprovarci, quindi siamo ripartiti da capo e abbiamo ricostruito di nuovo questo robot. Quindi sostanzialmente la gara era la stessa dell'anno scorso, quindi l'Explorer Junior, brevemente consisteva in un labirinto, un circuito pieno di scatole e qualcuna di queste scatole conteneva delle sorgenti luminose. Il robot doveva essere in grado di evitare gli ostacoli, quindi seguire, secondo la sua logica, questo labirinto e trovare le sorgenti luminose. Quindi ogni luce erano due punti e ogni penalità, cioè se il robot si bloccava era un punto in meno. Questo robot non è lo stesso dell'anno scorso, anche se è basato sulla stessa piattaforma. L'abbiamo completamente smondato e ricreato, infatti funziona un po' diversamente, ha qualche sensore in più e soprattutto sensori in meno davanti e quindi con meno sensori riusciamo a fare la stessa navigazione. Abbiamo migliorato il sistema delle fotoresistenze, che ci consente di evitare errori di letture, sfruttando una differenza tra le due. Abbiamo quindi migliorato la velocità, la stabilità e quindi sostanzialmente rispetto all'anno scorso questo qua riusciva a seguire il perimetro in un tempo minore. Abbiamo messo delle schede elettroniche per l'alimentazione, per abbattere i consumi e quindi diciamo che l'autonomia è stata anche migliorata. L'esperienza è stata molto più difficile, dobbiamo dire che la scuola può competere con scuole più difficili. Abbiamo vinto con scuole di Udine, con lo scientifico di Salerno, quindi ci siamo fatti valere. Un'esperienza unica, sono veramente felice di aver fatto parte di questo progetto e ringrazio il professore Anzalone che mi ha potuto far partecipare e anche la preside. Sono veramente soddisfatto.